buongiorno amigli buongiorno amigli allora quest'oggi mi raccomando questo video da condividere con tutti gli amigli napolitensi napolitensi mi raccomando oggi voglio fare un video a difesa del grande aurelio de laurentis aurelio de laurentis uno di noi uno di noi viva aurelio io sono sarò sempre dalla parte di aurelio de laurentis di claudione lotito e dei della valle viva questo magico trio viva la classe media del calcio che sa di essere tale e guarda in faccia tutti e non ha paura di nessuno viva la classe media viva anche pallotta viva anche il vituperato pallotta viva questi quattro i quattro dell'ave maria e sapete perché difendo sapete perché difendo de laurentis perché ieri sono uscite alcune dichiarazioni del nostro in cui anche con molta con molta piacevolezza tutti criticano il fatto che de laurentis fa le dichiarazioni fa le uscite fa le sparate per fortuna per fortuna che c'è qualcuno che dice le cose pane al pane e vino al vino sennò sai che noia sai che noia lasciar fare agli esperti del politichese ci avete rotto i maroni viva de laurentis viva le cose dette pane al pane e vino al vino ancora più stima e ieri de laurentis cosa ha detto ha detto che lui non intende fare follie per far rinnovare mertes e caleion ha detto che in signa è un bravo giocatore ma dovrebbe sostanzialmente concentrarsi un po più sul campo e che lui è stanco sostanzialmente di questo atteggiamento di persone che magari ricevono offerte dalla cina e che se vogliono andare in cina possono andare lì ma lui ha in testa il napoli e ha anche detto che se gli arrivano delle offerte enormi per culibali può essere costretto a cederlo e ha ragione e ha ragione e le critiche maggiori le riceve da chi da chi gli rimprovera il fatto di non vincere un napoli che non vincerà mai ma lo sapete che se oggi a parte che sono critiche derivanti spesso anche da altri tifosi che magari tifano juve tifano inter e pretendono di imporre la logica di uno che tifa juve o tifa inter al napoli capito allora de laurentis è un cattivo presidente perché non fa vincere il napoli ma vi rendete conto che per il napoli è già un grandissimo traguardo lo dico anche ai tifosi napoletani il fatto di poter provare e pensare di vincere per come è stato il napoli negli ultimi decenni per cos'era il napoli prima dell'arrivo di de laurentis a napoli dovrebbero fare strade lastricate con le pellicole dei film di de laurentis dovrebbero fare una statua coi raiban addosso fuori dallo stadio al grande aurelio de laurentis al grande aurelio de laurentis e ha ragione è un presidente che fa le cose secondo fa il passo secondo la gamba e così si fa calcio con pazienza con perseveranza a piccoli passi cercando sempre di aumentare qualcosa quest'estate tutti dicevano è ha preso manolas e culibali vedrete che qualcuno avrà ceduto il napoli non ha ceduto nessuno o ha una squadra come fa con fabian ruiz con gente come caleon mertens insigne culibali manolas ma averla io una squadra del genere ma averla io una squadra del genere c'è anche gente che si lamenta e ha perfettamente ragione a usare questa logica di tutti utili nessuno indispensabile ha perfettamente ragione anche su culibali perché un giocatore magari di quella di quella caratura lì magari se ad un certo punto gli mancano gli stimoli se vuole andare via e se la fulminanza della sua carriera sportiva non può anche fisiologicamente reggere il passo dei 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 piccoli passi di una società come il napoli ci può stare che venga ceduto è lo stesso nostro discorso di chiesa nel calcio di oggi non è il discorso l'importante non è non cedere l'importante è cedere tu puoi cedere anzi per certi versi è meglio cedere ma nel momento in cui cedi reinvestire bene quello è importante ma non è che non si deve cedere ha ragione ma metti caso che arrivino 100 110 milioni da culibali il napoli può farsi una squadra livellata con quei 110 milioni magari andare a rafforzare altri reparti è giusto essere coscienti della propria dimensione ok e anche questa storia di rimproverare le mancate vittorie al napoli ma napoli non è neanche storicamente diciamo deputato ad essere l'anti juve il napoli nella classifica di sempre di serie a e dietro per esempio anche alla fiorentina a livello di punti tradizionalmente al napoli non si può chiedere un ruolo che è sempre stato quello di inter di milan il napoli lì è una bella sorpresa e parlo a livello sistemico calcistico una bella sorpresa figlia anche e soprattutto del lavoro di de laurentis e di questa società poi voi potete dirmi quello che volete sul fatto che comunque è una piazza passionale con tanti tifosi che è giusto che stia a questi livelli ma io infatti sono sono contento ed è giusto anche che una piazza così importante stia a quei livelli ma guardate che non c'è niente di regalato guardate che ci sono state presidenze in passato io me lo ricorderò sempre quel napoli nostrissimo quello del 2000 2001 con edmundo fresi amoruso saber ve lo ricordate galletti con lo sponsor peroni la maglia della nike allenato da 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 zema mi pare anche dal grande mondonico ecco però per esempio per farvi un esempio il napoli all'epoca penso fosse ugualmente seguito allo stadio avesse lo stesso bacino d'utenza anzi forse anche maggiore perché c'era ancora l'eco di un decennio prima delle vittorie di maradona ma era un napoli che si contendeva la salvezza senza riuscendoci senza riuscirci in serie a il napoli non ha mai avuto una squadra così forte eccettuato il periodo di maradona ma comunque sarebbe bello confrontare quella squadra è questa perché a me questa addirittura togliendo quella pepita che fu maradona è addirittura più equilibrata di quella questa magari non ha il fuoriclasse assoluto ma ha più buoni giocatori distribuiti il napoli così è una squadra che non c'è niente di regalato per questo napoli è tutto costruito col lavoro con la progettualità con la gradualità anche che è l'opera di dell'aurentis e fidatevi di me meglio un presidente vulcanico che si fa sentire che è presente piuttosto di tante società e tanti presidenti che non si fanno sentire che gestiscono la squadra all'aziendale è meglio così è meglio così io se fossi napoletano se se ti fassi napoli sarei il primo alfiere di aurelio dell'aurentis viva aurelio dell'aurentis ha ragione secondo me ha ragione poi per carità capisco il fatto che quando sei a un due metri due metri e mezzo dal traguardo ti viene fame e dici per carità è bello vincere anch'io quando avevo la mia fiorentina che era lì per giocarsi i quarti posti dicevo caspita sarebbe bello fare un passo in più e provare a fare qualcosa però un conto è dirlo con razionalità capendo che comunque stai vivendo una situazione di privilegio ok un conto è fare i paneggiri cioè anche le contestazioni che sento o il fatto di avere sempre questa ironia verso dell'aurentis perché parla perché fa l'uscita ma cosa ha detto di grave ha detto cose giuste ha messo il quando lui dice mi rifiuto di fare follie per i rinnovi di questo quel giocatore fa benissimo perché mette al primo posto il napoli mette al primo posto gli interessi economici e sportivi del napoli e anche sto mito di merton scusatemi mi ha anche un po rotto i maroni sto mito di merton che poi dicono tutti che è che è simpatico a me a me non è mai stato simpatico merton trovo molto più simpatico un caleion per esempio sebbene anche lui sia in questa vicenda dei rinnovi e così ma se è giusto così rinnovi a delle condizioni che possono andare bene al napoli alla società napoli al mio progetto sportivo bene sei il benvenuto e stai in campo tra l'altro due giocatori fortissimi niente da dire ma se le pretese sono tante se a livello societario è meglio fare altre scelte io mi fiderei del presidente perché in questi anni il napoli ha avuto una crescita progressiva ha avuto una crescita progressiva il napoli l'unica scelta che secondo me è stata sbagliata ok è stata quella dell'allenatore ma possiamo dire che il napoli come squadra si è indebolita nel corso degli anni per me no a livello di giocatori è sempre stato un crescendo poi magari non c'è stato uno strappo non c'è stata non so una campagna acquisti che ti ha fatto diventare la prima della classe ma il napoli a livello di calciatori il napoli di quest'anno secondo me è più forte del napoli dello scorso anno per esempio cioè senza ombra di dubbio livello di ecco l'unica cosa è che ancelotti ha scusate che de laurenti sa sentire certe dichiarazioni una sorta di predilezione per ancelotti o ci va d'accordo ecco io lì sono un po più scettico sapete cosa penso di ancelotti vedrei meglio altri allenatori nella piazza napoli lì non sono totalmente d'accordo ma ripeto per quel che riguarda la gestione dei calciomercati la gestione della squadra la gestione societaria la gestione societaria la crescita del napoli e i livelli sportivi raggiunti dal napoli chapeau chapeau a de laurentis e non fatevi fregare magari dei tifosi di altre squadre che dicono ecco il napoli non vince mai questo napoli non vince mai ma il napoli è come è come per esempio l'atalanta no che adesso fa campionati da terzo quarto posto ma si può rimproverare all'atalanta il fatto di non riuscire a essere un anti juve no e per il napoli sebbene il napoli sia di un livello ovviamente superiore all'atalanta il concetto però è simile il napoli i campionati che sta facendo sono già una manna dal cielo per quella che è stata purtroppo la storia anche recente del napoli sono una manna dal cielo e a mio avviso valutando questo ci sta tutta una certa gradualità una certa pazienza un certo ringraziamento quindi viva dell'aurentis uno di noi